Amo! Che? Oh, oddio! Che? Avvisami quando arrivi, no? E a che ora dobbiamo andare con gli altri? A che ora dobbiamo andare? Tra un'ora. Oh, ok. Già mi stai a dire che faremo tardi? Ma che? Io ci metto 5 minuti. Sì, e io sono Stefano De Martino. Guarda che io mi devo vestire e fare un trucco leggero. Leggero? Eh, nature. Nature! Eh, che ci metto? Brava! S'ha passato a dire! Ma io dico, è possibile che tutte le morte ci vanno l'anni per essere pronta? Pronta! Come sto? Ma dove andiamo? Ma dove mi stai portando? Devo sedere! Ma che? Perché? Ferma! Ma che? Non sto cadendo. Ferma! Ma che è? Ma che è? Come era l'effetto? Nature! Marmo! Nature! Buon mattino! Ciao! 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 Grazie.